E sulla legge elettorale il senatore Calderoli dopo il via libera di otto regioni ha depositato proprio stamattina in Cassazione il quesito della Lega per abrogare la parte proporzionale. Ce ne parla Maria Antonietta Spadorcia. Il nome già c'è, Popolarellum, perché a decidere per una legge elettorale maggioritaria saranno i cittadini. Lo ripete da giorni Matteo Salvini, lo ribadisce oggi Roberto Calderoli, che a passo spedito arriva in Cassazione per depositare il quesito referendario con cui si chiede di abrogare la parte proporzionale dell'attuale legge elettorale. La richiesta arriva da otto regioni oltre il numero minimo previsto per tale richiesta e l'obiettivo è quello appunto di arrivare a una nuova legge elettorale in cui, spiega Calderoli, subito dopo il voto si sappia chi ha vinto e chi ha perso per evitare, insiste, che si abbiano governi come quello attuale in cui minoranze fanno maggioranze di palazzo. Il sostegno arriva anche dai giuristi con tanto di elenco di firme promaggioritario, a spiegarlo il professor Valditara. No al proporzionale perché rende più difficile la formazione di governi solidi e stabili, perché incoraggia la frammentazione del quadro politico con la creazione di micropartiti con poteri di ricatto e di veto. Sia al maggioritario per la chiarezza e la trasparenza, perché le coalizioni si formano prima del voto e i cittadini possono vagliarle e sceglierle. E questo è solo il primo passo perché nel centro-destra si pensa di aprire la strada alle elezioni diretta del Presidente della Repubblica.